Bella a tutti ragazzi, siamo qui nel terzo episodio di questa magnifica serie dove andiamo a spacchettare Adrenaline oggi con una grafica molto meglio la risoluzione quindi sediamoci e che dire, spacchettiamo ok ragazzi, siamo qui, abbiamo sistemato un po' l'inquadratura bene, ok così si vede molto meglio e ora inizio da Samuel e poi lo toccherò io, poi andrò a Samuel e poi andrò io quindi tengo io il telefono, ancora dobbiamo comprare i treppiedi raga allora, apriamo la bustina comunque ragazzi oggi è risoluzione molto migliore di ieri diciamo vabbè molto dai tra ok, intanto deve scassare le carte adesso iniziamo a prendere confidenza con youtube perché già dopo due video sai come questo ce lo teniamo, perfetto, bravo il maghetto ok, ok vabbè quella, aspetta aspetta, fa toccare, fa toccare vedo io, vedo io, spoiler ti dico che è un logo, quindi mettiamolo dietro ok e io so già che il logo di quale squadra è uh, Samirola Andanovic secondo me gli insegniamo oggi già a prima rara forse ho visto no, fra, momentum forse ho visto qualcosa no, aspetta 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 ok, noi sponeremo la rara se è la momentum forco due forco disco, forco due ok, buono Teo, Teo Hernandez no, la stella, raga allora, è quella che hai trovato tu in pratica no, perché è il Torino eh, lo sapevo oh, comunque la stella bella bella, bella la stella bella, bella, bella porca due ok, dual sim la mettiamo qua la stella ok, adesso ok, perfetto ora adesso spacchetto io porca miseria ragazzi che infarto scusate non sparpagliate le carte eh, così qua io, io quando apri i pacchetti la faccio vabbè, questo è il primo ragazzi scusate per per la schifezza di video che cioè, che sto usate un po' la confusione però dobbiamo organizzare le carte allora, capi hai trovato lui lui poi allora, per carità non mi fa proprio schifo però va mi aspettavo e questa è la prima rara due quindi la prima stella se non mi le stelle potevamo anche mettere di più di rara vabbè, qua un altro code promozione comunque per chi non lo sapesse a fine video vi faremo vedere un pacchetto che abbiamo aperto da soli noi ok, poi li mettiamo un altro modice un pacchetto che noi abbiamo aperto da soli cioè, senza fare video anche perché era un pacchetto tanto perché non avevamo niente da fare quindi oh, abbassa il quadretto passo ok siediti ok ragazzi piccol di verbi fra i youtubers ok portiamo questo ok ok volevo provire provare provire provire ad aprire così anch'io vediamo se porta aspetta io voglio snicciare voglio snicciare allora in cam non faccio vedere ok vai in cam non faccio vedere questo è il codice lo so ok aspetta aspetta oh doppia fogliettina intanto giriamo e aspetta ah qua ci sono le regole di tutto il gioco un'altra n che ci serve aspetta vediamo snicciamo ok ok non ha detto nulla quindi non lo so allora aspetta c'è un logo e non credo sia l'unica rara no bra c'è solo allora questa è una rara vabbè ok no rara non ci sono rare forse vabbè davide sarà uuuu non ho visto nulla uuuu ciruzzo raga buona questa si che è buona ciruzzo immobile vabbè ciruzzo ovviamente nel pacchetto del navoli di ciruzzo troviamo ciruzzo che pareva raga ma non ce l'abbiamo martine squarta no ciruzzo non ce l'abbiamo martine squarta no abbiamo lazari metti metti qua la luce poi marco sportiello aspetta comunque ciruzzo è molto bello sportiello e niente basic card con ivan ilice e poi logo dell'atlante ok bene ragazzi scuotimento nel rumo un poco ok così si vede allora ma se faccio tutto al zoom no 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 non conviene far cabare no aspetta il duo non è molto zoom dai si è molto zoom è molto zoom ragazzi ragazzi scusate per per la ignoranza è molto zoom comunque dai ok intanto abbiamo inquadrato un po' di ok aspetta 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 non lo faccio vedere in in cam ti dico che è una bella roba ti dico che è una bella roba vediamo se c'è un altro logo io già so che cosa non c'è un logo l'ho sentito ruido no come non stai facendo vedere niente oh ok non stai facendo vedere niente no lo so lo so e ragazzi non lo sto facendo in non lo sto facendo vedere 3 2 1 youtube camera oh tanto mirano ok ok quindi non napoli allora ragazzi nel napoli vorrei precisare una cosetta per tutti i fan napoletani ecco i poveri fan napoletani che si ritrovano nella maglietta vecchia del napoli comunque fan napoletani come i paranormal comics che salutiamo non mi sono sperato il sharao no e vabbè il sharao è comunque bella non ci posso credere stiamo dal torino il giocatore del torino eh infatti e già l'avevo vista e fra ma ti sorprenderai che dietro c'è un'altra rara e abbiamo a mezzo tra ore raga cioè io me ne sto andando cioè ok molto bene un diamante una stella cioè raga raga quante roba due stelle due stelle due stelle tutte trovate dal maestro usavamo vabbè ragazzi sistemiamo un po' il casino che c'è qui e torniamo ok qua ci sono le stelle bene qua c'è il nostro pacchetto e aspetta fammi aspetta come lo facciamo come lo facciamo vabbè così ok allora ha portato sfortuna quell'apertura così però secondo me un'apertura che porterà molta fortuna quella che faccio sempre io ma quale è tu ah tu sei una pippa estrema oh certo io che ho trovato due stelle e un diamante così secondo me porta fortuna si strappare tutto il mazzo sicuramente gioco sicuramente panini ti ringrazierà tantissimo per aver vissuto i loro pacchetti ma tu andrà tutti i pacchetti ok aspetta il maldizio la c'è ah ah c'è ah ah ma quel codice c'è capisco ah ok ma il codice c'è c'è il codice c'è 1 1 1 1 1 1 aspetta aspetta oh dio no fermo fermo non guardare no vabbè fometti eh sì aspetta ok ok ragazzi uh codice non ho fatto vedere intanto qua abbiamo un altro fogliettino del gioco online questa è la R quindi ADR N ADR NA LIN comunque una N la possiamo anche regalare no vabbè ma ci serve la N cioè capito ma ne abbiamo due di N sì ma ci servono tutte e due no che è ADR N ah certo certo visto ragazzi sono dislessico N N sì ma aspetta eh vabbè non lo facciamo vedere YouTube camera 3 2 1 uh ho visto già qualcosa no raga l'auto era Martinez Pedro uh carbone comunque oggi tutte buone carte screener Milan però cioè è un po' forse dalla parte sbagliata di Milano io so questo nome fra io so no 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 fra io so la carta io so la carta è la magic 4 fra questa è rarissima quella del Napoli fra è rarissima aspetta questo è tipo uno ogni box mi pare fra è rara cioè hanno detto così su YouTube oggi in un video vabbè uno ogni otto bustine comunque molto rara figata e poi ce lo siamo spoilerato questa roba però due ragazzi secondo me la carta c'è raga oggi bottino bottino di russo bottino vabbè cioè guardate allora parliamo di aspetta bene ragazzi questo è il bottino di oggi con Nawal Molina aspetta fate da Samuele più Ahmed un diamante un diamante ottimo ok allora ragazzi questa grafica diamante a me fa impazzire sinceramente perché questo blu questi piccoli quadrati blu fa impazzire raga quindi molto bello vabbè questo ma non di importanza Gabriel Strefezza è questa ragazzi che secondo me si prende il video si prende il video la magic 4 del Napoli con tre stelle quindi quella che ha più stelle allora questo Simono capito centocampista staccanti quindi due centocampisti due attaccanti non ho capito perché non ha logic non c'è logic nel DCS comunque con Anguissa Zilischi Rosano e Politano vabbè i tifosi napoletani per i tifosi napoletani la maglia non sarà quella nuova però questa è dedicata ai Paranormal Comics che loro attifano Napoli quindi un grande saluto a voi Paranormal Comics bene vi volevo fare vedere anche un pacchetto che oggi ci siamo aperti noi senza fare video era tanto per passarci un po' di tempo tra cui abbiamo trovato Lorenzo Sivestri come me Luigi Sepe poi Alessandro Prassani quindi oggi top card domani se volete un altro spacchettamento no scusate allora domani abbiamo degli imprevisti degli imprevisti quindi semmai lunedì vediamo lunedì di settimana forse usciranno video meno spesso però cercheremo di non farvi aspettare troppo oppure ragazzi allora vi dobbiamo dire una cosa allora usciranno anche dei video magari solo con Lorenzo o solo con me quindi a volte capiterà perché il canale ce l'abbiamo in uso tutte e due vabbè poi abbiamo trovato Stefano Sensi Mert Muldur che io questo ce l'avevo nell'anno scorso e infine Saet quindi la prima Saet di quest'anno come una allora ve lo dico è ruvida è un po' ruvida ma liscia cioè ok non ha senso è un po' ruvida ma liscia nel senso che ha quella ruvidità ma non è che ha molti così rilievo quindi è ruvida ma non ha cose rilievo quindi vabbè non so la grafica non bellissima dai video però cioè nella realtà rende di più anche per esempio anche lo soccorre rende di più un recap sulle carte basic che abbiamo trovato oggi Mina Screener Carboni Pedro Martinez Zima Esciarawi Politano Oliver Girogi tanto tanto Milan mi pare tre carte in Milan e anche dell'Inter anche di l'Inter sì tante carte Giroud Adalanta lo scudetto comunque ragazzi se non sapete che cos'è sia questa P a parer mia sarebbero le partecipazioni perché nello scudetto del Monza c'è scritto qui debutto quindi saranno le partecipazioni e poi ci sono scritte mi scuso ragazzi se si è chiusa la cam improvvisamente durante il video mentre stavo guardando queste carte eravamo arrivati arrivati al logo dell'Atalanta queste sono le partecipazioni in serie A sto dicendo io penso questo perché nel logo del Monza qua c'è scritto di debutto vediamo Ivan Illich Marco Scurtiello Lucas Martini Scuarta Ciro Immobile Luigi Ferroni lo scudetto del Torino con 7 campionati italiani vinti Tavernance Ola Vicky Savonar Samira Nandanovic e poi poi queste sono le carte del pacchetto che ci siamo aperti appunto oggi senza video Merton Muldur Stefanino Sensi Bastoni Seta e poi tutte le altre altre volte e infine poi coccere il mazzetto che dell'Erar con Magic 4 non so ragazzi qua non so se lo vedete persone prove di stampa vabbè non importa video lo strefels Magic 4 del Napoli diamante da me di traore scusate per l'errore navel marina stella e infine jaloux paprate stella e poi vabbè quella del pacchetto aperto senza video Seta molto bello e per tutte le altre carte dell'arte scusateci di nuovo per l'errore è bello